Situazione sempre più complicata in Libia dove le truppe del generale Haftar minacciano Tripoli. Nel pomeriggio Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dal Cairo il corrispondente Giuseppe Bonavolta. Gli uomini di Haftar, giunti a Ovest anche via mare, sono stati respinti dalle forze della coalizione di Tripoli. Un centinaio di loro, con una quarantina di mezzi armati, con mitragliatrici pesanti, sono stati catturati e arrestati dalle forze leali al Premier Serrage alla periferia di Al-Zawiyah. Ma è un fatto che in poche ore sono arrivati a una trentina di chilometri dalla capitale libica, senza aver incontrato decise resistenze. Appello congiunto alle fazioni per chi abbassino le armi e cerchino soluzioni condivise da Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Emirati Arabi e Italia. Londra ha chiesto e ottenuto una convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si riunirà questa sera. Il segretario generale del Palazzo di Vetro, Guterres, in una conferenza stampa a Tripoli, ha ribadito l'imprescindibilità del dialogo, ma ha valutato impossibile, viste le condizioni attuali, realizzare la conferenza programmata dal 14 al 16 aprile a Gadames, nel sud ovest del paese. Oggi è a Benghazi per incontrare Haftar che ieri ha impartito l'ordine alle sue truppe di marciare verso la capitale controllata dal Premier Serrage. Molti osservatori ritengono che la mossa di Haftar, concordata con l'Arabia Saudita che il generale ha visitato pochi giorni fa, sia un modo per conquistare posizioni di forza in vista della conferenza indetta dalle Nazioni Unite per pacificare la Libia e avviare il processo elettorale.